Pensi anche tu che sia molto importante puntare sui centri commerciali naturali in questa città, non solo nei centri commerciali? Assolutamente sì, questo è d'obbligo. Tenendo presente che noi abbiamo dei grandi eventi in questa città che sono San Giuseppe, che sono il Palio del Golfo, che sono le bellezze naturali di questo territorio, le 5 terre, l'opportunità di collegamento, le piazze, perché questa è una città ricca di piazze, di piazze di tradizione intorno ai quartieri e sono centri commerciali naturali, vanno valorizzati perché facendo sistema si crea una grande opportunità anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, per far vivere questa città. Abbiamo degli ottimi imprenditori, abbiamo le potenzialità, cerchiamo di perseguirle. Io direi che possiamo concludere questo incontro dicendo che Medina Spezia è la strada giusta, l'abbiamo intrapresa, ormai nessuno ci ferma più e possiamo dire che il nostro punto di partenza deve essere tradizione, cultura e italianità. Grazie. Grazie a te.